Musica La Biennale d'Arte Contemporanea del Belvedere di San Leucio che si inaugura domenica 1 ottobre alle 18.30 non sarà solo arte e musica ma anche degustazioni ma anche dolce noi infatti siamo con Raffaele Portogallo dell'azienda La Fauna, un'azienda storica di Aversa il cui dolce, guardate un po' tipico, è la polacca. Ciao Raffaele innanzitutto Ciao, buongiorno. La polacca è diventato col tempo l'emblema di Aversa ha una storia abbastanza lunga, nata nel 1926 da una sora polacca che diede la propria ricetta ad un pasticciere Aversano da allora tutti i pasticcieri ne hanno fatto un vero e proprio emblema è stata lavorata, aggiornata, in mille sfaccettature al cioccolato, nasce come un dolce pan brioche al ripino di creme amarene e poi diciamo le abbiamo aggiornata un po' tutti i pasticcieri moderni l'hanno aggiornata facendo varie forme e vari gusti noi l'abbiamo resa anche diciamo green, molto vegana anche per i più attenti alla linea, a quello che mangiano senza grassi derogenati e senza oli animali quindi domenica i nostri ospiti, gli ospiti della Biennale potranno assaggiare questa polacca ormai entrata nella storia ma io non direi solo di Aversa, nella storia proprio campana sì certo, noi principalmente ci concentriamo sulla polacca perché come detto è il simbolo della campagna ma anche e soprattutto di Aversa per noi motivo di orgoglio per essere qui poi avremo una varia degustazione di dolci nostri tipo i nuvolotti che sono un dolce che ha fatto un boom esagerato soprattutto ultimamente e come sono fatti? Sono curiosa diciamo sono simili al kraften tedesco però noi li abbiamo personalizzati con mille sfaccettature e mille gusti quindi ci sarà molto da provare e da assaggiare soprattutto allora che dire, noi vi aspettiamo anche perché poi abbiamo tantissime altre sorprese e naturalmente accompagneremo la polacca e gli altri dolci con i liquori di Andrea Petrone della distelleria di Mondragone quindi non ci resta che dirvi il primo ottobre qui al Belvedere di San Leucio alle 18.30 per la prima edizione della Biennale d'Arte contemporanea del Belvedere di San Leucio naturalmente con la fauna di San Leucio di San Leucio di San Leucio